Altro che isola felice, il Molise non è esente da infiltrazioni malavitose. Sette le misure interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Campobasso nei confronti di società collegate ai boss della Camorra. Importante il lavoro del prefetto Maria Guia Federico, elogiata dal ministro Salvini. Combattere l'emarginazione offrendo una casa e senza tetto è il progetto finanziato con un budget di 400 mila euro attivato dalla regione con l'ambito sociale di Campobasso e l'associazione cattolica Shomer. I casi di disagio potranno essere segnalati attraverso un numero d'emergenza. Tecla Boccardo scuote la politica, scelte coraggiose o così non si va lontano e il segretario della UIL parla di vertenze irrisolte, sanità in affanno e CIS da rivisitare. Strisce blu si parte anche a Isernia dopo le vicissitudini legate al bando, si può procedere con i parcheggi a pagamento. Tanti benefici per la città, ha dichiarato il sindaco Giacomo D'Apollonio, che tuttavia ha detto porterò le carte in procura. Il festival della Zampogna di Scapoli festeggia la 43esima edizione. Nell'ultimo weekend di luglio tanti artisti nella cittadina della Valle del Volturno. Rispetto al passato sono innumerevoli le novità, ospite ed eccezione Peppe Barra. Infine lo sport, il calcio resto a Campobasso fino al 30 giugno, così il presidente Nicola Circelli sul suo possibile coinvolgimento nella cordata interessata al Foggia. Poi una stoccata allo staff tecnico, il secondo anno non si può sbagliare, campagne abbonamenti con prezzi popolari. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con le news di Teleregione, lo avete sentito, il Molise non è esente dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Il prefetto di Campobasso ha emesso sette misure interdittive antimafia nei confronti di altrettante società che sarebbero collegate agli affari della Camorra. I dettagli nel servizio di Pierluigi Boragine. L'etichetta di Isola Felice è stata riposta nel cassetto d'apparecchio. Anche il Molise non è esente da infiltrazioni mafiose. L'ennesima conferma di una contaminazione che c'è e che va contenuta arriva dalla prefettura di Campobasso, dal prefetto Maria Guia Federico, che ha emesso sette misure interdittive antimafia, strumento amministrativo che permette ai prefetti di sospendere le attività economiche di quelle società sospettate di avere un legame, un collegamento con il crimine organizzato. Sono in forte aumento l'allarme lanciato più volte da Raffaele Cantone dell'autorità nazionale anticorruzione, allarme che si è trasformato nella provincia di Campobasso in sette provvedimenti, indirizzati ad attività commerciali con sede nella provincia, società sospettate di avere una connessione, un rapporto con la malavita organizzata che sceglie settori leciti per ripulire denaro sporco e intraprendere attività sane, entrando di fatto nell'economia reale utilizzando risorse proventi illeciti. Insomma una sorta di lavatrice che pulisce ciò che è sporco, rendendo lecito ciò che era illecito. Sette provvedimenti emessi dal prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, al termine di un lavoro incessante. Il numero, rapportato a territorio e popolazione, è ragguardibile e si riferisce al periodo ottobre 2018-aprile 2019. Aziende vere, presenti, visibili, ora sospese, senza alcuna possibilità di avere rapporti con la pubblica amministrazione. Tre a Campobasso, una nel nucleo industriale di Boiano, infine la costa, da sempre terreno appetito da chi vuole inquinare. Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia. Dai latticini alle pulizie, dal noleggio auto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, per finire ad una società che gestisce bar, lavanderie e ristoranti. Infine l'edilizia e la compravendita di fabbricati. Società quasi tutte legate a doppia mandata, ai boss della Campania e al cui interno figurano personaggi della criminalità organizzata. Volevano forse passare inosservati in Molise, ma non hanno fatto i conti con il prefetto Federico, elogiato dal ministro Salvini durante il suo recente comizio nel capologo di regione. Sta conducendo, le parole del vicepremier, un gran bel lavoro contro chi potrebbe aggredire questo territorio con affari illeciti e riconducibili alla criminalità organizzata. Siatene fieri. Ed ora l'appello di Tecla Boccardo. La segretaria della Will Molise scuote la politica sulla situazione della sanità, sulle tante vertenze irrisolte e anche sul CIS e su ciò che è da rivedere. Sentiamo. Servono scelte coraggiose, anche impopolari, per addrizzare la barra in Molise. Se ne è convinta la segretaria generale della Will Tecla Boccardo, che riassume la situazione di fatto della regione. In tutti i settori nevralgici, dice, siamo in difficoltà. La sanità in affanno personale allo stremo delle forze, il mantenimento dei servizi minimi è in discussione quotidianamente. Passando per l'ultima battaglia in corso per mantenere aperto il punto nascite di termo, li elenca e per il pronto soccorso di Campobasso in emergenza. L'elenco delle opere finanziate dal contratto istituzionale di sviluppo, inoltre, che doveva rappresentare il riscatto che viene dal basso, appare alquanto frammentato e senza un'anima, avendo premiato solo parzialmente la filiera tra comuni o la sintesi tra diversi soggetti proponenti. Per la sindacalista va dunque rivisitato per rafforzare e rappresentare un vero percorso di sviluppo per il Molise, non solo un'occasione di spesa. Chi viaggia da Termoli a Campobasso e viceversa ha a che fare con semafori, interruzioni e rallentamenti. Intanto torna in auge la quattro corsie. Benvengano iniziative serie, realizzabili, sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, che una volta per tutte ci aiutino a uscire dall'isolamento, purché, sottolinea la segretaria della UIL, si decida di farle. Infine le vertenze irrisolte. ITR sul tavolo di Conte e GAM con la task force permanente avviata sabato da regione e sindacati per fare chiarezza su quanto non si sta verificando rispetto agli accordi che il gruppo Amadori ha sottoscritto al Mise. Boccardo aggiunge non abbiamo più tempo per rimpalli di responsabilità, ognuno deve fare la propria parte, assumersi oneri e onori, ma soprattutto non è permesso venire meno agli impegni presi con questa facilità. Non può essere il CIS da solo o le risorse anche importanti destinate a turismo e cultura o gli ultimi bandi regionali a rimettere in moto la nostra economia, conclude la segretaria della UIL. Ci vogliono decisioni, orientamenti, idee e coraggio perché a volte bisogna anche fare scelte impopolari e di non immediata visibilità. La politica da sempre queste scelte non le fa. Noi ci faremo trovare pronti nell'offrire il nostro supporto, il nostro contributo e le nostre proposte. Ma così come si cammina oggi non andiamo lontani, anzi ci si ferma. La deputata molisana di Liberi e Uguali Giuseppina Occhio Nero è in questi giorni a Tirana per allacciare rapporti che possano rafforzare il legame tra i due paesi che si affacciano sull'Adriatico. La delegazione italiana ha incontrato imprenditori e amministratori con i quali stringere collaborazioni commerciali e turistiche. Il mare, ha detto l'Occhio Nero, è un elemento che unisce e non una barriera tra due sponde opposte. Abbiamo la possibilità di trovare nuovi sbocchi e la porta verso est che in Italia è costituita proprio dal Molise. Trova tutto ciò nell'Albania, un attracco naturale. Furti nelle auto in sosta a Ortona, Termoli, Monte Nero di Bisaccia, Vasto, Torino di Sangro, Fossa Cesia. Sono finiti in manette otto ladri, tra cui una coppia che era considerata la mente di questa associazione a delinquere, l'operazione dei Carabinieri di Vasto ed è denominata Street Predators. Sono stati accertati circa 50 episodi di furti in auto. I ladri si impossessavano poi delle carte Bancomat che trovavano all'interno dei veicoli e effettuavano dei prelievi. Dovranno quindi rispondere di associazione a delinquere in debito o utilizzo di carte di credito. furto aggravato e ricettazione nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza appunto si evince l'identità dei responsabili. Due episodi distinti di salvataggio nelle scorse ore a Termoli. Un 72enne ha rischiato di annegare e i bagnini sono subito giunti in suo soccorso. Un episodio analogo ha visto protagonista anche una bambina. Giovanni Cannarsa. Si è temuto il peggio ieri mattina sul tratto di spiaggia libera del lungomare nord Cristoforo Colombo a Termoli nei pressi dello stabilimento Balneare e le dune. A causa del forte vento del mare agitato un 72enne di Campobasso è rimasto in balia delle onde senza riuscire a fare rientro a riva. È successo intorno alle 13. I bagnini del Lido insieme ad altre persone si sono però accorti di quanto stava succedendo e con un moscone sono usciti in mare aperto raggiungendo l'uomo che è stato caricato a bordo e riportato a riva. Era cosciente in buone condizioni di salute ed ha riferito di essere un nuotatore esperto ma di essere rimasto a diversi metri dalla riva a causa del vento e della corrente. Una volta in spiaggia si è però diffusa la voce che in mare ci potesse essere una seconda persona. A quel punto sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco i sanitari del 118 i volontari della misericordia e il personale della guardia costiera che ha fatto uscire in mare due motovedette che hanno iniziato a perlustrare tutta la zona. A quanto pare però si è trattato di un falso allarme in quanto le ricerche in mare sono risultate vane e spiaggia nessuno ha denunciato la scomparsa di altre persone. Qualcuno fosse scambiato un tronco o un bidone per una persona ed ha fatto intervenire i soccorsi pensando che si trattasse di un altro uomo in difficoltà. Si presumevano due presumibilmente a chi diceva un tronco un bidone che affiorava alle 13 circa Buone le condizioni di salute del 72enne di Campobasso che non ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso ed ha potuto continuare la propria giornata in spiaggia. Combattere l'emarginazione e il disagio sociale offrendo delle case ai senza tetto su questo verte il progetto della regione in collaborazione con l'ambito sociale di Campobasso e con l'associazione Shomer i casi più gravi potranno essere segnalati anche attraverso un numero d'emergenza sentiamo di cosa si tratta. Il livello di povertà in Molise lo certifica l'Istat parla del 30% della popolazione che vive a cavallo della soglia dell'indigenza numeri drammatici che spesso però non evidenziano il problema quello delle persone senza fissa dimora ce ne sono a Campobasso trovano ristoro nella Casa degli Angeli gestita dalla Caritas sono cittadini stranieri uomini o donne reduci da separazioni persone arrivate da fuori la regione non ha voluto girarsi dall'altra parte rispetto a questo e ha messo in campo un progetto specifico con 300.000 euro di fondi PON e 100.000 euro propri l'iniziativa verrà attuata dall'ambito sociale di Campobasso e dalla Shomer associazione cattolica che è il braccio della Caritas diocesana del capoluogo ma in allerta saranno anche gli altri sei ambiti del Molise in modo che emerga il sommerso ovvero tutte quelle situazioni che per pudore non vengono rese note dovremo avere le antenne ha detto il governatore Toma in conferenza stampa nel presentare un progetto che è storico per il Molise e che si pone però in continuità col grande pacchetto di soldi stanziati per il sociale incremento delle risorse per i piani di zona finanziamento dei servizi prima infanzia finanziamenti per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti fornitura gratuita dei farmaci di fasciaccia alle persone affette da malattie rare definizione del fondo per la non autosufficienza sono solo alcuni degli esempi citati questo per lasciare intendere come combattere il disagio e l'emarginazione siano delle priorità per il governo Toma nella sala giunta di Palazzo Vitale l'assessore al ramo Mazzuto che nonostante sia dimissionario ormai da dieci giorni che continua a lavorare senza sosta ha spiegato i dettagli del progetto messo in piedi col dirigente Michele Colavita si offrirà una casa per massimo un anno ai maggiorenni che temporaneamente sono in Molise e sarà attivato anche un numero per segnalare le emergenze laddove parliamo di migranti bisognevoli di attenzione non parliamo della massa ma parliamo di quelle poche persone possiamo parlare anche di una decina di unità ma forse al di sotto anche di una decina di unità che sono fuori dai centri di assistenza di accoglienza quando parliamo di separazioni familiari voglio dire l'intervento è su quelle situazioni familiari più gravi laddove ci sono i genitori voglio dire in difficoltà tutte queste persone potranno avere accesso a una casa che sarà messa a disposizione assolutamente sì questa è la prima fase ma esiste anche una seconda fase di questo progetto che prevede come dire un tirocini formativi una rimessa in condizione di poter continuare a sperare in una società migliore anche per loro che hanno subito dei danni sociali se vogliamo insomma vogliamo metterla così elogi dall'arcivescovo Brigantini e da Don Franco Donofrio che sono da sempre in prima linea con i ragazzi della Caritas per aiutare gli invisibili l'ambito sociale di Campobasso intende organizzare per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto per gli studenti disabili residenti nei comuni appunto dell'ambito del capoluogo e che frequentano le scuole superiori lo ha annunciato il sindaco del capoluogo Roberto Gravina l'avviso è finalizzato a garantire a studenti residenti in città iscritti e frequentanti gli istituti superiori affetti da disabilità certificata non autonomi il servizio di trasporto dal proprio domicilio alla sede scolastica e viceversa a garantire a studenti residenti in altri comuni dell'ambito iscritti e che frequentano le superiori sempre affetti dalla disabilità certificata il servizio di trasporto sempre dal proprio domicilio alla scuola quindi un'iniziativa in più che partirà dal prossimo anno da settembre strisce blu a Isernia si parte lo ha annunciato il sindaco Giacomo D'Apolloni oggi in conferenza stampa ha detto che ci saranno molti benefici per la città tuttavia della questione se ne parlerà anche in procura come ha specificato il primo cittadino sentiamo perché il sindaco di Isernia Giacomo D'Apolloni accompagnato dall'assessore a ramo Antonella Matticoli e dall'ingegner Giuseppe Cutone responsabile del settore tecnico ha voluto illustrare in conferenza stampa le novità che riguardano i parcheggi a pagamento gli stali blu saranno 867 a fronte degli 827 approvati dal Consiglio Comunale con un margine però del 5% che il sindaco ha inteso sfruttare per sanare un eventuale contenzioso con la ditta che ha vinto la gara d'appalto a marzo quando i lavori hanno subito una battuta d'arresto su indicazioni dello stesso primo cittadino i parcheggi a pagamento erano 972 150 saranno gli stali a pagamento al coperto tra auditorium e via abberta oltre agli abbonamenti è prevista anche una tolleranza di 10 minuti per le sosse brevi si potrà pagare anche tramite applicazione sul cellulare in tal caso la ditta contemplerà anche le frazioni di ora coloro che invece pagheranno con le monetine dopo i primi 10 minuti di tolleranza pagheranno 80 centesimi all'ora diversi i vantaggi per l'ente di palazzo san francesco 162 mila euro all'anno entreranno nelle casse del comune a prescindere dagli introiti della ditta inoltre il comune incasserà una percentuale sulle multe di contro l'azienda si è impegnata a ristrutturare l'immobile del terminal autobus a riattivare il bike sharing e la ztl nel centro storico ripristinerà proprie spese i parcheggi al coperto farà manutenzione ordinaria sulla segnaletica orizzontale ai cittadini che annunciavano ricorsi ed esposti alla corte dei conti alla procura ed all'anac il sindaco ha risposto piccato corte dei conti non ho capito perché dicono che adesso non facendo le soste si fa un danno erariale allora decidetevi o facciamo le soste a pagamento oppure come molti chiedono le facciamo allora non creiamo un danno erariale bisogna darsi una regolata per quanto mi riguarda vorrei tranquillizzare tutti l'utenza i cittadini la stampa che io già ho attivato ovviamente gli organismi competenti a decidere perché io ho fatto nella mia vita un certo tipo di attività di mestiere per cui so quello che devo fare non me le faccio certo suggerire dall'esterno dopo la firma del sindaco sull'autorizzazione a procedere con i lavori la AG Mobilità di Spoleto procederà a ritracciare gli stagli a pagamento dopodiché il servizio sarà finalmente operativo poi noi avremo abbiamo una città a misura d'uomo che può essere da un capo all'altro in maniera tranquilla scoraggiare l'uso dei veicoli quindi molto un vantaggio per l'ambiente la possibilità di creare un traffico meno caotico la possibilità di creare degli spazi davanti ai negozi le attività commerciali oggi ci sono strade completamente in base alle macchine macchine che stanno lì anche due tre quattro giorni consecutivi non vengono spostate perché sappiamo che in ogni famiglia esiste più di un'autovettura possibilità di rispettare le regole perché qui purtroppo la nostra è una città spesso caotica strade non ce ne sono parcheggi non ce ne sono e poi alla fine finiamo per intasare le strade e questa cattiva abitudine di riprendere la macchina anche per fare 150-200 metri veramente così speriamo che possa finire questi sono i motivi per cui esistono le soste a pagamento lo fanno nella nostra città c'è la nostra capologo di regione c'è la città più piccola come Agnone e Venafro c'è la Termoli Isernia per qualcuno non deve avere le soste a pagamento insomma questo mi sembra una cosa che non sta nel cielo interno e peraltro abbiamo creato anche un'opportunità per l'amministrazione per gli utenti di avere un vantaggio da tutto questo e credo che possa essere sicuramente una strada che può essere intrapresa il 27 e 28 luglio prossimi torna l'appuntamento col festival internazionale della Zampogna di Scapoli tanti ospiti spicca Peppe Barra che si esibirà la domenica sera oggi la presentazione in conferenza stampa a Isernia vediamo tutto pronto per la 43esima edizione del festival internazionale della Zampogna di Scapoli il programma è stato presentato nei locali del Musec proprio per esaltare il concetto di tradizione di arte che è il mood di quest'anno tantissimi ospiti di fama internazionale e anche stranieri su tutti spicca Peppe Barra che si esibirà a conclusione del festival quindi la domenica sera alla presentazione ha partecipato anche l'assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno che ha sempre creduto in questa iniziativa ormai storica di cui abbiamo parlato col consigliere delegato al turismo Stefano Itzi e col direttore artistico Cristian Di Fiore quest'anno siamo arrivati alla 43esima edizione del festival un appuntamento storico molto importante le novità di quest'anno sono il rafforzamento del parterre musicale con un innalzamento della qualità stiamo investendo molto sugli artisti che verranno a esibirsi sia il sabato che la domenica ci sono nomi internazionali e nomi nazionali di fama internazionale come Beppe Barra la nuova compagnia di canto popolare la domenica David Müller organettista olandese che verrà ad esibirsi sempre la domenica il sabato è dedicato più al folklore e un aspetto tarantellistico con gruppi molisani ma anche di regioni limitrofe Lazio Campania e Sud Italia in generale la novità d'eccellenza di quest'anno è il rafforzamento del concetto della mostra mercato del festival della Zampogna dove rafforzeremo appunto le bottighe artigiane degli zampognari di Scapoli che presenteranno tutti i loro strumenti musicali di varie forma di varie dimensioni e tonalità zampogna e ceramella ovviamente per la maggiore e poi abbiamo l'onore di ospitare il tombolo di Sernia la pontificia a Fonderia Marinelli che avrà un'esposizione adiacente al museo della Zampogna gli antichi messieri quali quelli degli impagliatori di sedie di Vimini e anche i falegnami d'arte quindi questo è volto a un inalzamento della qualità della materia esposta e dell'artigianato locale tutto a volto appunto a rafforzare il concetto di mostra mercato il concetto di convivialità e di ospitare famiglie curiosi della cultura molisana Sì siamo contenti di essere arrivati alla 43esima edizione del festival della Zampogna con l'auspicio di ricreare un clima di festa di sobrietà di eleganza e di raffinatezza questo sarà possibile grazie alle persone che verranno anche possibilmente con gli strumenti da altre regioni oltre che gli artisti di calibro internazionale ad esempio David Molle di All'Olanda oppure Beppe Barra storico musicista attore e cantante della tradizione napoletana sicuramente ormai Scapoli a livello internazionale rappresenta una unicità per la valle del Volturno per la nostra regione ma anche per il nostro paese io sono convinto che puntando appunto su queste unicità sulla storia sulle bellezze sulle tradizioni del nostro territorio sono convinto che possiamo fare un bel sviluppo economico della nostra regione Grande entusiasmo a Campobasso per la prima audizione di Molise Factor giovani cantanti e aspiranti ballerini si sono messi alla prova con loro stessi per aggiudicarsi una borsa di studio da 1000 euro Nella galleria del polo commerciale centro del Molise la prima giornata di audizioni per il concorso Molise Factor la manifestazione fortemente voluta da Maurizio Mangia direttore del centro oltre alla giornata di selezione di ieri vedrà un altro appuntamento di gara domenica prossima in totale saranno 12 concorrenti ammissi a una finale che si svolgerà il 28 luglio a partire dalle 16 e vedrà come ospite giudice speciale Umberto Gaudino ballerino della trasmissione Amici il concorso giunto alla sua seconda edizione permette ai talenti molisani della musica e della danza di mettersi in mostra affrontare il pubblico e fare esperienze competitive 15 concorrenti di ieri visionati da una commissione di esperti composta da Daniela Barbiero Irene Fratangelo e Mariangela Leggeri la giuria ha puntualmente sottolineato alla fine di ogni esibizione prege difetti di ogni singola performance a condurre la prima giornata di audizione lo showman Fabrizio Fasciari che è riuscito ad alleggerire l'evidente attenzione di ogni singolo candidato i primi sei finalisti sono Francesco Scarselli per la categoria show Ocke Ocotiebor e Vladimir Francesco Cascitelli per la categoria canto il gruppo Peter Pan Valeria Pizzuto e Francesco Tomasso per la categoria danza a questi si aggiungeranno altri sei concorrenti scelti tra quelli che si affronteranno domenica prossima nella galleria del centro del Molise tutti in gara per un unico premio finale una borsa di studio del valore di mille euro è il momento del meteo scopriamo che tempo farà in Molise nelle prossime ore previsioni del tempo di martedì 16 luglio l'anticiclone resta sbilanciato sul Mediterraneo occidentale favorendo la discesa lungo il suo bordo orientale di correnti fresche tempo e nuovo peggioramento con nuovi rovesci e temporali migliora entro la serata con il ritorno a ceri sereni o poco nuvolosi venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrione mare poco mosso ecco le temperature Campobasso minima 15 massima 22 gradi Isernia 16 25 Termoli 17 27 Benafro 17 28 ed ora solo qualche istante di pausa restate con noi perché tra poco c'è la pagina sportiva ed eccoci ritrovati per parlare di sport e di ciò che sta accadendo all'interno della società del Campobasso ne abbiamo parlato direttamente col presidente Nicola Cercelli che telefonicamente ha voluto smentire le voci che lo davano per partente resto fino al 30 giugno ha detto e poi non ha mancato di lanciare delle stoccate allo staff tecnico del team Rosso Blu sentiamolo Presidente Cercelli il suo nome è accostato a quello del Foggia è orgoglioso di questo e cosa c'è di vero? Sono orgoglioso perché evidentemente il mio nome è spendibile ancora in altre piazze però diciamo che io ho amici a Foggia come ce li ho a Bari come ce li abbiamo a Benevento quindi non vedo nulla di nuovo e di scandaloso di vero per quanto riguarda la mia presenza nell'accordata non c'è niente in quanto io ho un accordo, un contratto fino al 30 giugno 2020 con il Campobasso e quindi per me io intendo rispettarlo Senta, un discorso diverso invece riguarda il direttore generale Polcino che potrebbe lasciare Campobasso per approdare proprio in Puglia Polcino a mio avviso è una persona che ho voluto io ed è tra quelle più competenti in questo settore e tra quelle che hanno fatto il maggior lavoro tutto l'anno passato insomma per arrivare dove siamo arrivati è normale che è una persona che viene chiamata da diverse piazze tra cui c'è anche quella di Foggia io personalmente non mi sento di tenerla qui a Campobasso quindi è giusto che se lui trova altre opportunità è giusto che le valuti Presidente parliamo del Campobasso i problemi tra virgolette societari sono stati risolti adesso il Campobasso insomma marcia velocemente verso l'allestimento della squadra e verso l'inizio di questa nuova stagione con quali propositi? Io da contratto non mi occupo della parte tecnica quindi chi se ne occupa si assumerà Oneri o loro si assumerà tutte le responsabilità sia in negativo che in positivo presumo che è da fare una squadra per poter competere il secondo anno non ci possiamo permettere di sbagliare era quello che io a inizio insomma stagione mettiamola così volevo fare con il Benevento solo che è stata considerata una succursale del Benevento non lo è più del Benevento vediamo quello che succede però bisogna attrezzare una squadra per vincere quest'anno se no si fallisce E la campagna abbonamenti del Campobasso dovrebbe partire alla fine del mese si sta pensando a dei prezzi popolari per andare incontro alle esigenze della tifoseria e cercare di coinvolgere il maggior numero di sostenitori possibili per garantire un'annata con un discreto numero di spettatori Ed ora parliamo di calcio a 5 il circolo La Nebbia Cus Molise è ufficialmente in serie a 2 oggi pomeriggio il direttore generale della società Gilberto Grigoli ha inviato agli organi competenti il materiale necessario per permettere alla squadra del capologo di presentarsi ai nastri di partenza della categoria superiore dopo la vittoria dei playoff di B nella scorsa stagione un primo passo importante per una nuova grande avventura di cui sarà protagonista non solo Campobasso ma tutto il Molise quello di oggi è un giorno da ricordare per il CLN Cus Molise ha spiegato l'avvocato Grigoli siamo ufficialmente in serie a 2 abbiamo compiuto un primo importante passo verso quella che sarà per noi una nuova avventura sportiva abbiamo lavorato tanto per mettere ogni tassello al proprio posto e ci siamo riusciti nei tempi e nei modi che ci aveva richiesto la federazione Restiamo a parlare di calcio a 5 ma andiamo in serie B perché c'è un'altra new entry nelle file dello Sporting Venafro tra i pali la formazione affidata a mister Massimiliano Matticoli potrà contare su Cristian Tomei 28enne al quarto torneo cadetto elemento di grande prestanza fisica è alto 1,85 per 90 kg di peso è un giocatore solido tra i pali forte nell'uno contro uno Tomei va ad aggiungersi alle altre new entry Melfi e Natale e ai confermati Di Paolo, Andreozzi, Corsetti, Valbona, Iacovino, Labella, Valletta e Rosni complessivamente per il team Venafrano ci sarà un organico a 15 con altri tre colpi in canna e c'è un ingresso nuovo anche nello staff dello Sporting Venafro a dare un supporto al tecnico Massimiliano Matticoli ci sarà il match analista Andrea Pietrunti sono davvero felice, ha detto, di entrare in questa grande famiglia voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che si è posta la società è tutto per questa edizione che come sempre vi ricordo potete rivedere online collegandovi alla pagina Facebook di Teleregione oppure al nostro sito teleregionemolise.it grazie di essere stati in nostra compagnia arrivederci grazie di essere stati in nostra compagnia